salve care amiche ed amici qui il vostro carissimo amico che vi saluta sono uscito fuori bene spero che questo video vi interessi allora volevo ringraziare scrivete qui sotto se volete e volevo ringraziare le persone che mi hanno fino adesso finanziato con vari metodi per esempio c'è gs che mi ha dato un super chat nel 2 marzo 2023 il tizio che mi ha dato super sticker il 28 gennaio traccia anarchico pasqual gruelico regolicamente mi ha dato un super chat il 19 gennaio ivan che mi ha dato un super sticker il 16 giugno 2022 gs che mi ha dato un super chat il 2 marzo 2023 il tizio che mi ha dato un super sticker il 28 gennaio 2023 traccia anarchico pasqual gruelicamente il 19 gennaio mi ha dato un super chat ivan super sticker il 16 giugno 2022 gs mi ha dato un super chat il 2 marzo 2023 il tizio mi ha dato un super sticker il 28 gennaio 2023 traccia anarchico pasqual gruelicamente super chat il 19 gennaio 2023 ivan mi ha dato un super sticker il 16 giugno 2022 gs mi ha dato un super chat il 2 marzo 2023 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 il tizio super sticker il 28 gennaio 2023 traccia anarchico super chat il 19 gennaio 2023 traccia anarchico super chat 19 gennaio 2 marzo 2023 il tizio super sticker il 2 marzo 2023 il tizio super sticker il 2 marzo 2023 il tizio super sticker 2 marzo 2023 traccia anarchico super chat il 19 gennaio 2023 ivan super sticker 16 giugno 2022 2 marzo 2023 il tizio super chat il 2 marzo 2023 il tizio super sticker 2 marzo 2023 traccia anarchico super chat il 19 gennaio 2023 ivan super sticker 16 giugno 2022 gs super chat 2 marzo 2023 il tizio super sticker 2 marzo 2023 traccia anarchico super sticker 2 marzo 2023 traccia anarchico super chat 19 gennaio 2023 ivan super sticker 16 giugno 2022 gs super chat 2 marzo 2023 super sticker da parte del tizio il 28 gennaio 2023 pochi giorni dopo il mio compleanno che del 26 gennaio trash anarchico pasqual golicamente 19 gennaio 2023 pochi giorni prima del mio compleanno ivan super sticker 16 giugno 2022 e poi 2022 gs super chat 2 marzo 2023 il tizio super sticker 28 gennaio 23 traccia anarchico 19 gennaio 2023 ivan super vediamo un po' perché qua ci sono problemi 19 gennaio ivan super sticker 16 giugno gs super chat 2 marzo 2023 il tizio super sticker 208 28 gennaio 2023 super sticker divan traccia anarchico 19 gennaio 23 gennaio 2023 iban su risk per 16 giugno perché qua a me li mette in ordine sparsi e io a volte ho difficoltà a leggere qua non so se ce ne sono di più se ne sono un sacco ma non so se mi salta che fa sì sì qua c'è anche di ivan supersticker 16 giugno 2022 traccia anarchico per quel gruicchia mente 19 gennaio 23 non so se li sto ripetendo perché io faccio scroll verso il basso e mi sembra che mi ripropone mi ripropone gli stessi o mi hanno donato gli stessi giorni molto di più perché io continuo a leggere 19 gennaio 19 gennaio sì no succede che il 16 giugno 19 gennaio 3 sì ci saranno stati si ripetono gli stessi giorni donativi oppure qua 2 marzo da parte di gs vediamo se c'è allo stesso live sì mi sembra che che ripropone gli stessi donativi più di una volta non è facile non è facile guardare lo schermo usare audacity anche perché poi c'è il problema dei formati e di tutte le altre cose comunque ringrazio le persone che ho finito di ringraziare prima ridondantemente e cerco di caricare un altro un'altra pista audio nel video stavo parlando di come se mi aiutate con dei donativi io potrei comprarmi degli anelli perché oggi nel centro cioè ieri nel video ho visto degli anelli d'argento con pietre nere ma anche dorati con pietre rosse o anche dorati o anche d'argento di platino forse magari di quelli che sono platinati o argentati e poi si sbucciano e hanno il piombo sotto ti viene il saturnismo allora se voi mi regalate quanti che centinaio di euro mi compro degli anelli argentati o platinati che hanno la pietra nera che mi piacciono tanto però dicevo come ci sono i cosiddetti coati che si mettono l'anello con la pietra sul dito mignolo perché quando vanno al bar e girano il cappuccino il caffè con il cucchiaino e poi prendono la tazzina e vanno a bere alzano il mignolo per far vedere l'anello perché vogliono passare per raffinati se si mettessero nelle prime due dita l'anello probabilmente non potrebbero esibire gli anelli invece si alzano le ultime dita soprattutto il mignolo quando girano il caffè con il cucchiaino o il cappuccino fanno vedere gli anelli che hanno nelle ultime dita per quello che una volta si considerava che era un po da cafoni portare sul dito mignolo un anello con pietre e anche può essere inconveniente perché ti picchi l'anello e rovini le pietre allora dopo che ho ringraziato le persone per avermi sponsorizzato in questi ultimi due o tre anni che posso dire vi ho anche detto che mi voglio comprare degli anelli d'argento con pietre nere magari onyx e vi ringrazio a tutte e tutti guardate che zoom che è venuto che io non sono riuscito a levare lo zoom e sono molto contento di riuscire a mettergli l'audio a questa porcheria di video probabilmente youtube addirittura me lo demonetizza perché veramente oggettivamente parlando non so che cosa sto facendo lottando con un editore di video lottando con un registratore di audio cercando il formato ideale e non so neanche come vendrà perché adesso l'editore di video finché io non edito il video non so se viene con un buono un cattivo audio o addirittura non viene per nulla con un audio e come dire adesso è tutta un'avventura perché sto perdendo controllo dell'editore video sto perdendo il controllo dell'editore di suono però continua ad andare avanti ci ho messo più tempo di quello che volevo perché avrei fatto una live oggi però voi mi raccomando qua accanto siete ancora in tempo per regalarmi un super chat e un super sticker o dall'altra parte dipende da dove vendrà poi mi raccomando qua sotto commentate questo video condividetelo e compratevi un super grazie così mi compro gli anelli d'argento che oggi ho visto nel centro oppure metto dei soldini da parte perché io voglio uscire con un cellulare di gamma bassa per le strade della città a filmarmi soltanto che esco con un occhio ascia 302 perché è l'unico cellulare di gamma bassa non voglio che mi me lo rubino così ancora non guadagno con youtube non sono un youtuber che fa centinaia di milioni di views allora vi lascio sta per volgere al termine questa pazzia per fortuna purtroppo con questo zoom avrei voluto riprendermi meglio intanto sto tutto il tempo in macchina che è che cosa che cosa riprendo vi ringrazio della vostra pazienza chissà quando uscirà questo video cercherò di farne altri migliori da fuoristrada ma mi raccomando fatemi dei donativi e condividete questo video grazie mille di seguirmi ciao ciao vediamo come viene ciao mi raccomando ciao terza e ultima pista audio perché oppure ha avuto problemi ad editare il suono da mettere in questo video e speriamo che l'editore il registratore di suono che ho nel cellulare perché forse avrei dovuto fare le piste audio direttamente dal cellulare non mi crei dei problemi come già successo anche nel passato bene nella seconda parte dell'audio di questo video ho ringraziato tutte le persone che mi hanno fatto dei donativi forse anche più di una volta perché molte volte youtube ripete le stesse operazioni no allora non mi sembra che ho riletto i stessi donativi più di una volta ma fa niente meglio rabbondare e in pratica vi invito di nuovo come se non bastasse adesso non posso neanche vedere il video quindi faccio a caso perché mancano cinque minuti di registrazione allora vi invito di nuovo a guardare il mio video commentarlo dargli like condividerlo e soprattutto qua accanto nella chat intervenire con i super chat e gli stickers e poi comprare vabbè super grazie quando questo sarà un video e non una premier oppure di comprare qualche super grazie regalarlo sotto i miei video i video che vi piacciono di più miei poi tra l'altro comprando i super grazie voi vi garantite che il vostro commentario sarà messo in bella evidenza naturalmente potrete anche comprare l'abbonamento a nome di qualcuno che abbia una conta di youtube o comprarvelo voi l'abbonamento vi ringrazierei in ogni modo e così come dicevo precedentemente siccome ieri giovedì e adesso che registra venerdì magari lo voi lo vedrete un altro giorno il video siccome sono andato al centro e ho trovato che in una vetrina c'erano dei bellissimi anelli non so se erano d'argento o di platino di sicuro un bagno d'argento un bagno in platino erano più che altro dei bijoux che non degli anelli in argento platino massiccio non ho chiesto magari erano d'argento massiccio però o era oro bianco però ecco mi piacerebbero quegli anelli tanto per cambiare quelli che ho adesso allora fatemi un donativo o nell'acciata qua accanto oppure compratevi sto super grazie se voi invece di comprarvi un abbonamento che mese per mese dovete pagare comprate un super grazie per l'equivalente mensile di quello che volevate spendere chiaro pagate in un'unica soluzione e non ci pensate più perché i super grazie non sono mensili paghi un'unica volta l'abbonamento paghi ogni mese per dire se fai un abbonamento da 4 euro 5 poi alla fine e devi stare ogni mese e sono 5 euro sono 60 euro all'anno però devi stare ogni mese ogni mese poi magari un mese prima devi disdire altrimenti parte un altro anno di abbonamento un altro mese invece con i super grazie no con i super grazie fai un unico pagamento allora tu dici voglio dargli un abbonamento annuo di 60 euro però non voglio trovarmi vincolato a un abbonamento allora compri un super grazie da 60 euro e tante grazie e non c'è ogni mese da pagare già paghi un'unica quota di 60 100 euro 200 ma non ci pensi più ti togli un dente invece con un abbonamento anche se di due euro al mese e poi passa l'anno e continui a pagare devi disdire un mese prima tutte queste altre cose qua allora presso a poco mi mancavano cinque minuti li ho subito fatti poi magari dovrò anche tagliare l'audio comunque vi ringrazio a tutte e tutti e ci vediamo alla prossima questo esperimento è stato un fiasco non lo faccio più cerco di non togliere l'audio ma se voi mi darete dei donativi io magari mi compro un cellulare migliore per uscire di casa che non il nokia asha 302 perché non voglio uscire con il mio nuovo cellulare che altrimenti me lo rubano e lei c30 fusion della motorola e ma non voglio neanche uscire con un motorola moto e 7 e power perché costa voglio prendere uno più economico per uscire di casa allora aiutatemi vi ringrazio molto di tutta la simpatia che avete nei miei confronti e ci vediamo ciao statemi bene